Il capitano, abbiamo voluto te oggi perché veramente hai preso la squadra sulle spalle, l'hai caricata in tutti i modi. Non era facile contro questo Giappone, ce l'avete fatta e tanto è anche il merito tuo. Assolutamente non era facile, sapevamo ecco, infatti ho detto ai ragazzi all'inizio prepariamoci per una battaglia perché comunque con queste nuove regole una squadra come il Giappone che è molto dinamica, veloce, è vantaggiata con queste regole. Perciò penso che abbiamo reagito bene, andavamo sopra di due, poi sopra di uno, poi loro ci avvicinavano però abbiamo continuato con il nostro gioco, con quello che ci ha chiesto Sandro e alla fine la vittoria l'abbiamo portata a casa. Certo è stata una prova dura anche sotto il livello mentale, proprio per quello che hai appena detto tu. Cioè il Giappone era sempre lì, sempre addosso, possiamo dire? Loro hanno, penso, le batterie dure a Cielo perché comunque non finiscono mai. Anche voi? Sì, no, è una cosa incredibile. Poi Sandro ci aveva chiesto a noi di appunto capitalizzare su magari un errore loro in contropiede di fargli male col nostro contropiede. Così è stato, un paio di volte siamo riusciti ad andare, mi ricordo Stefano è andato da solo quindi abbiamo preso un rigore, ho fatto un gol in contropiede, perciò abbiamo usato tra virgolette la loro forza contro di loro. Questo allora è anche un punto di forza vostro, no? Sì, esattamente. Penso più chiaro la lettura del gioco. Parecchie volte abbiamo fatto dei tiri da due metri a uomo in più, quindi verso la fine dell'attacco vuol dire che abbiamo letto bene il gioco e scelto l'uomo libero più vicino alla porta. Il CT Sandro Campagna ha detto che questa è una partita a sé, adesso si riparte un po' da zero contro la Germania da zero, punto a capo, ma c'è in palio una cosa importante, il primo posto del girone. Certo, avrebbe piacere comunque avere un giorno in più di riposo, però anche per allenare comunque quegli errori che mancano da togliere, ecco, quindi fissare il primo posto con la vittoria dopodomani è importantissima, più che altro per la nostra sicurezza e la strada che dobbiamo fare ancora. Da capitano, allora, ci hai detto cosa hai detto prima alla squadra, invece cosa dirai adesso? Beh, adesso andiamo a fare del nuoto sciolto e a recuperare. Poi io non dico più niente, sarà Sandro e lo staff ad analizzare la nostra performance e io ripetere quello che dice il nostro capo. Grazie, grazie. Grazie a voi.